Benvenuti cari telespettatori nel cuore di Terra Mara, dove la drammaticità della storia continua ad avvolgersi durante la settimana dal 7 all'11 di agosto. Un oscuro segreto si cela tra i protagonisti e il dolore di una perdita si diffonde nella villa Yaman. Demir, deciso a fare chiarezza sulla paternità di Adnan, organizza una conferenza stampa rivelando il legame biologico con Ilmaz. Ma la verità nascosta genera sconcerto e rabbia e Ilmaz, molto infuriato da tutte le bugie che vengono raccontate da Demir in quella conferenza stampa, sequestra Adnan e poi lo riporta alla villa seguente. Causando però una furiosa reazione di Zuleyla che lo confronta accusandolo di essere uguale a Demir, disposto a privarla dei suoi figli, non capendo quanto la fanno soffrire così. Nel frattempo, Fekeli propone nuovamente il matrimonio ad Unkar, che accetta con entusiasmo questa volta. Ma un investigatore privato, che Unkar ha pagato per svelare degli oscuri segreti sulla perfida Beice, gli fa la relazione e gli dice che Beice ha assassinato entrambi i suoi mariti precedenti per ottenere l'eredità. A questo punto Unkar affronta Beice e gli espone tutto ciò che lei ha trovato e che ha anche le prove e che andrà direttamente alla polizia a denunciarla in modo che lei venga scacciata dalla tenuta e anche dal paese. Ma la donna è priva di scrupoli. Prima fa finta di ascoltare passivamente, poi improvvisamente estrae dalla sua borsetta un coltello e la colpisce brutalmente, cercando poi di mascherare l'omicidio come una rapina, quindi togliendogli tutti i gioielli di Unkar e portandoseli con sé. E lasciandola lì, sora, abbandonata, in mezzo a un bosco. Il lunedì 7 agosto 2023 la villa è scossa dalla misteriosa scomparsa di Unkar. Le ricerche si intensificano, coinvolgendo Fekeli, preoccupato dopo averle fatto la proposta di matrimonio. Tutti sono nell'affanno della ricerca di Unkar, ma nessuno la trova, quando improvvisamente Demir trova uno scialle in terra nella campagna. Avvicinandosi vede un corpo bianco in terra, una macchia bianca tra gli arbusti, si avvicina e lì, allibito, vede il corpo di sua madre, morta, senza più respiro. La disperazione e il dolore si diffondono. E Azize è in preda anche a un attacco di demenza, nega totalmente la realtà, coprendo il corpo, convinta che lei debba solo riposare. Poi, quando torna alla lucidità, si rende conto che Unkar non c'è più e diventa preda di un attacco di panico. Il martedì 8 agosto 2023, la notizia della morte di Unkar si diffonde, bloccando tutti, compresa Musjigan. I sospetti si concentrano su Beige, che aveva minacciato le nozze di Unkar e Fekeli. Musjigan si interroga sulla possibilità che la zia sia coinvolta in questo brutale omicidio. La tensione cresce, e tra dubbi, accuse e colpi di scena, la villa Yaman è sconvolta. Cosa nasconde la morte di Unkar? E chi è il vero colpevole? I destini dei personaggi si intrecciano, ed in un intricato labirinto di segreti, passioni e vendette. E solo il tempo rivelerà quale oscuro mistero si cela tra le mura della tenuta. Ma continuiamo a guardare gli altri giorni della settimana. Ma nel frattempo ricordatevi di cliccare un mi piace al video e di iscrivervi al canale. Ed anche di farmi sapere nei commenti qui sotto se vi fa piacere che io vi faccio dei video di ogni particolare che succede durante la settimana. Quindi magari il dettaglio della morte di Unkar o altre cose. Scrivetemelo nei commenti, così saprò come comportarmi per i prossimi video, per rendervi sempre più felici. Beice è decisa a questo punto a incastrare qualcun altro al posto suo per l'omicidio di Unkar. Quindi lascia la tenuta di Fechili e si sposta verso un piano più malvagio. La sua vittima designata è Sevda in quanto è la rivalità tra le due e ben nota da tutti. Nascondendo così i gioielli rubati di Unkar nella sua abitazione, Beice orchestrerà una messa in scena per far cadere tutti i sospetti su di lei. Mercoledì 9 agosto 2023 è una giornata funesta per la villa Yaman, mentre si preparano per il funerale di Unkar. Nel frattempo, grazie alla segnalazione anonima di Beice, la polizia arriva a Sevda e ritrova i gioielli nel suo cassetto, arrestandola con l'accusa di omicidio. Le tensioni aumentano ed Emyr, nonostante dubbi iniziali, inizia a ritenere Sevda responsabile dell'omicidio dopo aver visto i gioielli. Manzuleila è lucida e decisa a non credere a questa ipotesi, sollevando il dubbio che Beice possa esserne coinvolta, conoscendo molto bene il personaggio. La situazione diventa ancora più intricata quando Fikered scopre una lettera accusatoria contro Mujigan firmata da Ilmaz e cerca di aiutarla a questo punto, ma la lettera finisce nelle mani sbagliate. Giovedì 10 agosto 2023 Fikered ascolta casualmente una conversazione tra Zuleila e Ulten, in cui quest'ultima confessa che non ha cercato di togliersi la vita ma è stata Mujigan a spararle. La notizia si diffonde rapidamente, gettando scompini nella villa. Demir è infuriato, si impegna a fare indagini e una perizia balistica conferma la provenienza della pistola di Ilmaz. Venerdì 11 agosto 2023 Mujigan viene arrestata con l'accusa di tentato omicidio. Ilmaz, per proteggerla, fa un accordo con Demir, ma la situazione sfugge di mano a tutti. E Mujigan finisce in carcere. Zuleila e Fikered, disperati, non riescono a evitare la sofferenza causata da questa drammatica svolta. Intanto Beiche è furiosa per aver perso l'appoggio di Fikered. Si rende conto che il suo piano sta crollando e la sua vendetta sembra sfumare. Ma cosa riserva il futuro per i nostri personaggi? Riusciranno a scoprire la verità sull'omicidio di Junkar? E quali altri colpi di scena ci aspettano nella travolgente trama di Terra Amara? Continuate a seguire le puntate perché solo il tempo rivelerà il destino dei nostri amati protagonisti. Ogni dettaglio, ogni emozione e ogni rivelazione renderà questa storia unica e indimenticabile. Non mancate i prossimi episodi dove il dramma si fa sempre più intenso e le verità nascoste verranno finalmente alla luce cambiando il corso delle loro vite. E ricordatevi che sul canale trovate già nel dettaglio due video, uno proprio sulla morte di Junkar, l'altro sul funerale nei dettagli di Junkar e soprattutto sulla disperazione della nonnina Azize di fronte al corpo di sua madre morto. Al prossimo video!